Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR Nel video di oggi voglio farvi vedere le cose che ho preso al supermercato Sono stata al Conad a fare la spesa E niente, ora vi faccio vedere tutto Forse noterete che il mood non è dei migliori Sì, sono un po' nervosa ma è colpa di una persona in particolare Allora, le prime cose che ho preso sono due confezioni di prosciutto cotto piacersi solo da un per cento di grassi Sì, ne ho presi due erano, mi pare in offerta, un euro e settanta Poi ho preso Questi qua, la molisana Chicche di patate Chicche di patate, patate fresche italiane Impastate a caldo, cotti a vapore Questi non erano nel reparto frigo Quindi Non penso vadano in frigo Però Non lo so, mi ispiravano un sacco Compravano buone E anche queste erano Inoltre Poi Ho comprato e mi ispira un sacco Questo, questo qui Grana patano top Selezione E' 150 grammi 1,94 euro Mi ispiravano un sacco Perché io amo i formaggi E amo il grana E E quindi io Cioè amo prenderlo a morsi Ecco Dopo mangiarmelo Così Oltre che grattugiato Che è buono sempre Poi Ho preso Queste tre Per cucinare Piacersi Crema per cucinare Meno 50% Di grassi Sono queste qui Le ho già provate altre volte Tipo Panna da cucina Però Versione Light Del Marchio Conad Poi Ho preso Questo qua Che Non è Insomma Non so quanto effettivamente utilizzerò Però è polvere lievitante Vanigliata Ideale per dolci A gente Levitante Levitazione istantanea Perché Dovrei provare a fare una torta Anche un po' Un esperimento In genere Non cucino In questa casa Mi piace cucinare i dolci Molto Ma Lo faccio in genere Quando sono in Sicilia Che ho tutte le mie cose Il frullatore La lavastoviglie Poi per dopo E soprattutto Io qui Non ho né farina Né niente Per fare dolci Burro Nulla Cioè proprio Non lievito niente Zero Infatti io non ho mai fatto dolci qui Nonostante Io mi ritenga Relativamente brava A provare i dolci Ma Qui non avendo Neanche i contenitori I mezzi Proprio Non Cucino Mai Dolci Poi ho preso anche questa riofferta Le stagioni d'Italia Coltiviamo Bontà Passata Di pomodoro 100% toscano Sono una grande consumatrice di salsa Infatti ne ho sempre un po' di sguardi a casa Poi passiamo al secondo sacchetto Qui ci sono gli scontrini Poi ho preso Queste qui che sono vaschette in alluminio Cinque Vaschette in alluminio Le ho pagate tipo 90 centesimi Perché sono l'offerta Perché Mi servono per Per il forno Per cucinare al forno In genere preferisco le Teie Non ho saggetta Però Ogni tanto Purtroppo sono comode Poi ci sono questi qui che non ho preso io Sono mini vestiti di pollo E ho preso il mio ragazzo Per mangiarseli lui penso Poi Valfrutta Ceci Selezione controllata Perché vorrei provare a fare la pasta e ceci Che ho mangiato varie volte sulla ricetta Ma non l'ho mai provato a fare da sola E quindi devo Devo provare E li ho presi Besciamella pronta all'uso Perché Dovrei provare a fare le lasagne 500 ml Questa vabbè con la nata non costava niente Poi Questo l'avete già visto sul mio canale Nor Minestrone unici verdure E' l'unico tipo di minestrone che io mangi E che abbia mai gustato Ecco E che mi sia mai piaciuto nella mia vita E Non so che il mio canale sarebbe meglio farlo in casa Ma tanto non lo so fare Non lo farò mai Quindi Mi sono arresa questo fatto Io lo prendo Lo frullo E' buono E mi piace un sacco E' perfetto per l'inverno E' caldo E' un posto un po' più Leggero E costa 1,94€ A latta A lattina E poi 3,10€ Questa Che era dal banco tipo panetteria Una sorta di impasto tipo pane pizza Non saprei Con Mi pare Formaggio E Dio stella Non mi ricordo Il gusto Però comunque Pizzetta E niente Questo è tutto quello che ho preso Ho speso 20€ in totale E dai sono Cioè Abbastanza soddisfatta E non avevo l'ora di provare Questo qui Questa è la cosa di cui facevano più Contenta in assoluto Perché ripeto Amo il grana E questo è un bel pezzo di grana Quindi Molto fatta E niente Ripeto E' tutto Vi saluto Spero che questo video vi sia piaciuto Che vi abbia rilassato E vi chico Che ci vediamo direttamente Nel prossimo Ciao a tutti